Quando sono entrato ero ancora a Ferragna, c'erano i vari capi laboratorio che facevano i capi, si lavorava normalmente riferendoci al nostro capo direttamente. Come primo lavoro mi interessava di gelatina che serviva per la preparazione dell'emulsione, dove venivano dispersi allo genuri d'argento per poi fare la stesa. Facevamo la gelatina dalle pelli di animali, di mucche, le pelli venivano messe in calce, ma in piccoli recipienti, poi si facevano bollire aggiungendo diverse sostanze e avevamo poi le vasche per il congelamento, venivano poi essiccate in piccolo essiccatoio dei laboratori e poi usate. Poi siccome la concorrenza usava le gelatine rousselot francesi che le facevano dalle ossa invece che dalle pelli, allora abbiamo provato a farle dalle ossa senza riuscirci perché era un'avvaluazione troppo complessa e andavo sovente poi a Torino dove la Ferragna aveva un piccolo reparto di produzione di gelatina, la Fermonte e lì seguivo, quando trovavamo qualche miglioramento stavo poi almeno una settimana al mese a Torino per introdurla in lavorazione. Facevamo le nostre prove di laboratorio e quando si otteneva un miglioramento pratico allora lo trasferivamo in produzione praticamente, la produzione della pellicola veniva fatta a Ferragna, la produzione di gelatina veniva fatta in questo stabilimento a Torino. Con l'avvento della 3M le cose sono un po' cambiate nel senso che ognuno faceva proprio lavoro all'interno di un team dove tutti erano responsabili allo stesso modo e quindi si lavorava forse meglio che all'inizio. Inoltre almeno per quanto mi riguarda la 3M è stata una buonissima società dove ci ha sempre trattato molto bene anche come finanziamento, richiesta di attrezzature, insomma siamo stati bene con 3M. Anche poi alla fine quando hanno deciso di lasciare lo stabilimento di Ferragna non è che l'abbiano lasciato, da un giorno all'altro è licenziato l'agente, è lasciata a casa e c'era la direttiva di mandare a casa l'agente abbastanza soddisfatta, anche se poi qualche dirigente di Ferragna non l'ha fatto, questa è un po' una polemica ma va bene. Io sono stato per un mese o due anche come emission, però lì ero una società istituita per liberarsi dello stabilimento di Ferragna, da come è stata formata si capiva da subito che voleva fare quello, noi volenti o nolenti ci hanno detto dovete andare in pensione, se volete andare in pensione dovete andare in pensione. Grazie.